Allora siamo arrivati ad un momento veramente speciale, un momento speciale, devo presentare una canzone probabilmente, cioè sicuramente è la nostra unica vera cover. Mi piace pensare a questo pezzo come come se Dio avesse prestato la sua bella preferita ad un artista, ad una leggenda della musica. Allora diamo ancora qualche seconda ai ragazzi per prepararsi, il batterista passa alle percussioni, allo jambè, allo tavanta, bravo di organizzazione. Se vi va ragazzi è una canzone talmente magica, sarebbe bello, siete tantissimi, vedere la piazza di Deligny, gli accettini al cielo, illuminate al cielo i cellulari, fate parte di questa grande magia. Posso chiedere una cosa, se potrebbe avere la luce, non so, rossa, viola, l'ho vista ieri, era carina, neanche perfezionista. Per entrare allora il stile, complimenti, grazie, neanche perfezionista. Per entrare allora il stile, grazie, 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 grazie. Per entrare allora il stile. Per entrare allora il stile, grazie, 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 grazie. Per entrare allora il stile, grazie, grazie. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! Grazie!